abbiamo la certezza che il male alla fine non vincerà Cristo risorto signore della storia e re dell'universo ha vinto la morte pertanto quello che alla fine conta veramente è il progetto divino che immancabilmente si adempirà ovvero il disegno benevolo di Dio per l'umanità che ha scelto di stare dalla sua parte dalla parte della luce dalla parte del bene dalla parte della verità e della giustizia dalla parte di Cristo con Cristo e in Cristo siamo amati scelti e nascosti resi figli per il suo regno che non avrà mai fine